Buonasera! La prima volta che ci incontriamo, volevo intanto dirvi che sono molto contenta. Mi aspetto molto da voi. Il mio impegno è proprio quello di mettervi in condizione di brillare il più possibile, di tirar fuori tutto quello che avete e di trovare una cifra stilistica, musicale, che sia solo vostra. Mi aspetto da voi tanto lavoro, tanta tenacia, determinazione, spirito di sacrificio, tanto coraggio. A me non interessa il compitino fatto bene. Mi piace l'idea che ogni volta che vi si dà un pezzo, voi sappiate renderlo vostro e possiate anche stupire il pubblico. Quindi non abbiate paura di rischiare.